Sono Silvia, faccio parte di CivicWise Italia, faccio parte appunto della rete nazionale ma anche della rete locale di Modena e lavoro all'interno di uno spazio che si chiama Ovest Club che stiamo costruendo come una Civic Factory o fabbrica civica in italiano. Mi è piaciuta l'intenzione di connettersi direttamente al territorio e avere molto più strutturata la parte di workshop anche per la pubblica amministrazione e gli enti che hanno collaborato e anche l'interazione con il gruppo locale, nel senso che credo che il gruppo di CivicWise Canaria sia molto forte, mi piace veramente tanto vedere come hanno lavorato e quanto hanno studiato anche i metodi e i protocolli da poter usare. Credo che abbiano dato un grandissimo valore aggiunto a quello che è la forma del local camp. Diciamo che per noi è il proseguimento di un percorso che stiamo continuando a costruire perché rispetto magari ad altre fabbriche civiche o comunque Civic Factory, noi abbiamo lo spazio e ci stiamo lavorando a livello istituzionale, siamo diventati i gestori dello spazio da maggio 2017, ma in realtà lavoriamo in quell'area dal 2016. Quindi anche il network e le relazioni con le istituzioni sono già cominciate e quindi per noi questo è un bel segno per poter aprire la nostra realtà ancora di più ai CivicWise e al contempo far conoscere CivicWise alla nostra città e all'Italia. Grazie.